I'm the realest one that's rapping oh my god oh my god if I am a lead and when they lay me down the red I know I was always rapping Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Oggi siamo qui perché voglio mostrarvi dove si trova la stella segreta della fine della settimana 2 Mi raccomando ragazzuoli tanti like in questo video e noi ci vediamo direttamente all'atterraggio bella Ok ragazzuoli eccoci qua si trova la stella segreta adesso vi farò vedere direttamente sperando di riuscire a prenderla Perché già avrò registrato tipo una trentina di volte ma non riesco a prenderla vediamo un po' perché ci sta troppa gente guys Quindi non è tanto facile ok si dovrebbe trovare se non materato sopra il tetto giustoni? Ok si infatti stanno andando tutti sopra il tetto eccola qua ragazzi qua si trova la stella segreta Mi raccomando ragazzuoli tanti like a questo video cercate di commentare e condividere se vi serve qualche altra guida Un bacione dal vostro Dark Chaos 92 e noi ci vediamo prossimamente Bella raga Ciao